In un'unità didattica continuiamo a parlare della pianificazione all'indietro cercando di capire come superare i problemi di incompletezza ben illustrati dall'anomalia di Sussman che abbiamo incontrato nella sezione nell'unità didattica precedente. Per farlo introdurremo il concetto di regressione de Gaulle. Dunque, ripartiamo dall'anomalia di Sussman che illustra il problema dell'incompletezza della pianificazione all'indietro. E cioè, se noi ad esempio decidiamo di prendere il, supponiamo il primo gol sopra AB e di conseguire questo di una coppia di gol per mettere A sopra B dobbiamo togliere C da A. Quindi per esempio togliamo C e lo mettiamo sul tavolo. A questo punto, che è meglio che metterlo su B, a questo punto possiamo mettere A su B. Ma dopo che abbiamo messo A su B ci accorgiamo che dobbiamo distruggere questo gol e quindi rimettere A sul tavolo perché se A è su B non possiamo poi mettere B su C. Viceversa, se prendiamo come primo gol metti B sopra C da questa situazione iniziale lo possiamo conseguire immediatamente questo gol. Ma dopo che l'abbiamo conseguito ci accorgiamo che dobbiamo distruggere questo gol rimettere B per terra perché altrimenti non possiamo poi mettere A su B. E quale sarebbe invece la soluzione? La soluzione sarebbe, per esempio, partendo dal primo gol, mettere C sul tavolo per conseguire, e questa sarebbe una precondizione per poter conseguire l'obiettivo di mettere A su B, però poi non continuare in maniera testarda a perseguire l'obiettivo di mettere A su B. Dal momento che C è sul tavolo, prenderà anche in considerazione la possibilità di poter, che era la precondizione per conseguire l'obiettivo di mettere A sopra B, dicevo, dal momento che C è sul tavolo, prenderà anche in considerazione subito il secondo gol, metti B su C, a questo punto possiamo mettere B su C, e a questo punto torniamo al primo gol, mettere A su B. Se seguiamo questa strategia, troviamo il percorso più breve, che, ripeto, è mettere C sul tavolo, mettere B, mettere C sul tavolo perché si consegue l'obiettivo mettere A sopra B, mettere B su C perché si consegue il secondo obiettivo, e poi tornare a mettere A su B per verificare il primo obiettivo. Questo modo di alternarsi fra un gol e l'altro aumenta il numero di percorsi, e quindi raggiunge il concetto della completezza perché li trova tutti i percorsi, e quindi se adottiamo per esempio la strategia Bright First che ci fa trovare il piano con il percorso più breve, effettivamente ci consente di trovarlo questo piano con il percorso più breve, e quindi eliminiamo l'incompletezza. Cioè la chiave dell'eliminazione dell'incompletezza sta nel concepire un pianificatore all'indietro interleaved, cioè che possa passare da un gol all'altro dei gol disponibili in quel momento, senza essere legato, per esempio con una strategia Depth First, a conseguire un gol, e se non è possibile conseguire il gol una delle precondizioni di un operatore che può conseguire quel gol, e se non è possibile una delle precondizioni degli operatori che rendono possibile la prima precondizione dell'operatore e così via, cioè senza intestardirsi a conseguire un gol, poter passare cioè da un gol all'altro all'interno dei gol correnti. Cioè quello che noi dobbiamo fare sostanzialmente è questo, capire come vengono regrediti i gol nel meccanismo di pianificazione all'indietro, nella means and analysis. Avevamo dei gol, c'è una certa azione che ci consente di conseguire uno o più dei gol che dobbiamo conseguire, un certo operatore, ipotizziamo, stiamo pianificando ovviamente, di metterlo in conto perché effettivamente potrebbe essere utile questa azione a vivere questi gol, a questo punto dobbiamo far regredire i gol, cioè supposto che questa azione la mettiamo per esempio come ultima azione nel piano, al livello della penultima azione quali saranno i gol che dobbiamo conseguire? Li prendiamo tutti, non prendiamo come gol regrediti solo le precondizioni di questa azione, ma prendiamo cosa? Ecco questo è il concetto importante. Regredire i gol significa prendere tutti i gol che c'erano prima che l'azione venisse posta in conto di essere compiuta. Gli togliamo a questi gols i gol che quell'azione consegue, perché se non ne consegue neanche uno, probabilmente, anzi sicuramente non l'abbiamo messa in conto come azione del piano, quindi perché abbiamo messo in conto di compiere quell'azione? Perché nella head list di quell'azione c'è il conseguimento di qualcuno dei gol che dobbiamo conseguire, altri rimarranno non conseguiti. Allora, quelli che rimangono non conseguiti ce li portiamo indietro, cioè li portiamo a livello precedente, saranno parte dei gol regrediti, ma saranno solo parte, perché a questi gol regrediti si aggiungono le precondizioni dell'azione che abbiamo concepito come ultima azione del piano. Stiamo partendo in questa pianificazione di indietro, quindi la prima azione sarà in realtà l'ultima. Quindi, il motivo dell'incompletezza che abbiamo visto nell'Italia dell'attiva precedente è che, avendo pianificato di compiere una certa azione, prendevamo come gol regrediti solo le precondizioni di quell'azione. Invece no, dobbiamo prendere le precondizioni dell'azione uniti i gol che non sono stati soddisfatti da quell'azione. Ce li dobbiamo tutti portare all'indietro. A dire vero, dovremmo anche fare attenzione probabilmente a che l'azione che abbiamo posto in atto, concepito di porre in atto, non vada nella sua delete list a cancellare alcuni dei gol, perché se nella delete list l'azione mi va a cancellare alcuni di questi gol, questi gol me li perdo, e cioè regredendoli scompaiono e quindi non avrò più motivo di andarli a risolvere e quindi rimarranno non risolti quei gol. E quindi dovremmo fare attenzione a questo. Però dovremmo fare anche attenzione a fare attenzione. In prima ipotesi imponiamo questo, questo vincolo, che la delete list sia disgiunta dai gol. Come vedremo la delete list può avere a totale copertura sulle precondizioni dell'azione, ma sia distinta dai gol. Cioè non mi vada a cancellare dei gol che c'erano prima dell'azione e che li devo regredire indietro, perché se mi vado a cancellare non li regredisco e non li posso più conseguire. Però, ecco, il motivo di un attimo di sospensione, noi adotteremo questa strategia, ma mettiamo subito le mani avanti dicendo che ci possono essere alcuni casi in cui un gol può essere temporaneamente eliminato perché poi sarà eventualmente rimesso in essere successivamente, una successiva parte del piano. Cioè a volte siamo costretti a rimuovere certi gol per poter compiere certe azioni, tanto poi quei gol ricompariranno successivamente. Sono casi un po' particolari che questo approccio che stiamo per vedere perderebbe la completezza e il trattamento di questi casi particolari. Ma in realtà dovremmo emendare questo pianificatore che stiamo per vedere facendo in maniera tale che eventualmente nella hard list di qualche operatore successivo si possa rimettere in conto alcuni gol che una delle hard list di un altro operatore aveva distrutto. Tutto questo che ho appena detto è una complicazione che non prenderemo in considerazione in questa ordine di attica e neanche in questo corso, ma va tenuta presente per scopi significativi, scopi professionali. Comunque, ripeto, questo pianificatore che stiamo per vedere non tratta quei casi, nel senso che non li trova, quei piani in cui dei gol vengono temporaneamente rimossi per poter eventualmente essere e fare ricomparire gli operatori successivi. Dunque, andiamo avanti. Praticamente, quello che dobbiamo fare è regredire questa parte verde. I goals che non vengono soddisfatti dalla hard list e più le precondizioni dell'azione. E come fare questo? Cerchiamo di farlo direttamente portando avanti l'esempio che abbiamo preso anche noi dopo seguendo Nielson nel suo libro Artificial Intelligence come modello per poter presentare questi concetti. Dunque, abbiamo questi due goal. In questi due goal stiamo pianificando all'indietro e ne possiamo pensare di risolvere o l'uno o l'altro. Se per esempio decidiamo di risolvere on-bc dobbiamo cercare un'azione che abbia quel predicato cioè che abbia quel predicato ground come effetto cioè nella hard list come aggiunta l'unico operatore di quelli che abbiamo a disposizione è poggia poggia b su c avrebbe in effetti come effetto hard list che sarebbe messo b su c e quindi è candidato a risolvere questo goal qui dei due goal che dobbiamo risolvere e quindi mettiamo in conto di compiere questa azione stack b c come ultima azione poggia b su c a questo punto i goal regrediti diventano il goal che non abbiamo risolto on-b più le precondizioni di questo operatore e le precondizioni dell'operatore poggia b su c sono che b sia nella mano robotica e che c sia libero e quindi introduciamo queste due a questo punto ci possiamo accorgere che questo insieme di tre goal è un insieme di tre goal impossibile da conseguirsi perché prefigurerebbe uno stato in cui b il blocco è nella mano robotica e al contempo c'è un blocco A che sta su B questa incompatibilità fa sì che questo insieme di tre goal risulti contraddittorio e quindi possiamo potare questo ramo dell'albero che stiamo sviluppando in quanto che non configura ripeto un insieme di goal incompatibili fra di loro e quindi rappresenta un assurdo dunque vediamo che l'unica azione che possiamo effettivamente compiere come ultimazione nel nostro piano è quella di mettere A su B ovviamente non avremmo potuto concepire come ultimazione quello di mettere B su C perché B è il blocco intermedio nella pila quindi l'ultima azione sarà sicuramente mettere A su B allora pianifichiamo questa come ultimazione facciamo lo stesso che abbiamo fatto cioè conserviamo regrediamo il goal che stack A su B non risolve cioè on B C lo regrediamo più ci aggiungiamo le precondizioni dell'azione di poggiare A su B esattamente come abbiamo fatto prima qui non troviamo nessuna contraddizione perché non c'è contraddizione fra il fatto che A sta nella mano robotica e il fatto che B stia su C quindi a questo punto dobbiamo regredire questo oggetto qui questi tre goal e quindi a questo punto concepiamo un qualunque operatore che vada a risolvere uno qualunque di questi tre se rimanessimo confinati a cercare un operatore che risolve o holding A o clear B che erano le precondizioni dell'azione precedente introdurremo l'incompletezza invece se noi prendiamo anche in considerazione il goal regredito on B C come eventuale possibile goal da conseguire nel penultimo piano nella penultima azione non perdiamo la completezza dunque noi possiamo a questo punto risolvere uno qualunque di questi tre goal e possiamo per esempio risolvere holding A e l'unica azione che ci consente questo è quella di fare il pick up di A cioè di togliere A di prenderlo dal tavolo oppure possiamo pensare di risolvere clear B a questo punto avremo due azioni che possono risolvere clear B o conseguirlo e c'è quello di di togliere A da B o quello di togliere qualche cosa da B perché anche se l'azione di togliere non fosse istanziata dal primo argomento comunque conseguirebbe cioè se ci fossero altri blocchi nel mondo oltre ad A e B e C se ci fossero un blocco D questa operazione qui coglierebbe questa eventualità l'importante è liberare B e quindi toglierci qualunque cosa sia sopra in particolare toglierci A ma questa sarebbe una particolare istanzazione di questa azione qui oppure possiamo conseguire l'ultimo obiettivo cioè quello di mettere B su C e quindi passare all'altro obiettivo e quindi come abbiamo visto prima sicuramente facendo così risolveremo l'anomalia di Sussman dunque come vediamo queste sono le quattro possibilità che abbiamo e e quindi le consideriamo tutte e quattro nel caso ad esempio di unstack AB partiamo qui da questo caso e andando a far regredire goal che cosa abbiamo abbiamo che scomparirebbe quello che unstack A su B consegue e cioè scomparirebbe clear B e scomparirebbe anche holding A cioè verrebbero eliminati tutti e due questi goal e quindi se per esempio utilizzasse come euristica un euristica che ci fa preferire un operatore che ci elimina più goal di quelli che deve eliminare questa sarebbe un'azione giusta da compiere ma a questo punto rimarrebbe il goal on BC e dovremmo aggiungere le precondizioni di questa azione ma le precondizioni di unstack A su B sono che la mano è libera che A è libero e che A sta su B se andiamo a introdurre queste precondizioni come i goal regrediti abbiamo questi quattro goal regrediti i tre della precondizione di questa azione più il quarto che non era stato conseguito e vediamo che lo stato in cui ci andiamo a trovare è un super insieme di quello originale cioè abbiamo quattro goal due dei quali sono quelli da cui eravamo partiti per cui questa è una strada che non conseguiremo perché non conseguiremo perché sostanzialmente ci porterebbe a un insieme di goal che è un super insieme di quelli che dobbiamo risolvere e quindi sostanzialmente con un ragionamento simile a quello che facevamo al suo tempo per i belief state dobbiamo dire che questa è una strada che sostanzialmente comporterebbe comunque il soddisfimento di questi due goal che erano quelli del problema originario e quindi dovremmo probabilmente fare un loop e quindi non andiamo avanti su questa strada se in generale scegliamo l'azione di togliere un qualche cosa da B che non necessariamente sia il blocco A avremo questa stazione particolare che magari discuteremo anche fra un attimo in cui andiamo ad aggiungere come goal quello che si libererebbe un certo oggetto che non è A si libererebbe e avremo cioè dovremmo conseguire l'obiettivo di avere un oggetto libero che non sia A e questo oggetto deve essere su B ma sempre nelle precondizioni di unstack X su B andiamo a introdurre che ci sarà manteniamo holding A perché non viene risolto perché non è A che spostiamo da B da sopra B che ci sarà un certo oggetto sopra B questo sarà un goal che dovremmo conseguire perché era la precondizione di unstack X su B e sempre la precondizione di unstack X su B è che la mano robotica sia libera ora c'è una contraddizione fra mano robotica libera e holding A e quindi ci accorgiamo immediatamente che anche questo insieme di goal è non conseguibile perché è contraddittorio non può essere che la mano robotica sia libera e al tempo stesso ci abbia un blocco dentro nella sua presa il blocco A in particolare allora abbiamo questa altra azione qui stack B su C che risolverebbe solo questo goal qui e quindi lo risolve si porta dietro quindi holding A si porta dietro no risolve anche clear B perché mette B su C e quindi risolve sia on sopra B C che clear B chiedo scusa genererebbe però il goal clear C perché per mettere B su C bisogna che C sia libero e quindi abbiamo questi tre goal di nuovo qui abbiamo una contraddizione perché in questo stato qui B sarebbe nella mano robotica e anche A sarebbe nella mano robotica siccome abbiamo supposto che la mano robotica possa tenere un solo blocco abbiamo una contraddizione anche questo stato qui non è ulteriormente conseguibile e quindi potiamo l'albero anche qui quindi potiamo l'albero qui qui e qui a questo punto abbiamo solo l'azione pick up A cioè prendi A dal tavolo che effettivamente consegue l'obiettivo di avere A nella mano robotica rimane quindi l'obiettivo che B sta su C stia su C e rimane anche l'obiettivo che B è clear vengono introdotti gli obiettivi la mano deve essere libera perché altrimenti non può essere compiuto il pick up di A A deve essere libero e A deve stare sul tavolo quindi vengono introdotti questi tre e non c'è nessuna contraddizione se ci fosse stata contraddizione anche qui vuol dire che i due obiettivi che avevamo non erano conseguibili invece qui possiamo andare avanti e quindi a questo punto questo è l'insieme dei goal correnti e come vedete ci portiamo dietro ONBC allora ecco siamo qui qui a sua volta avremo a disposizione alcune azioni per esempio l'azione PUT DOWN A conseguirebbe quello di avere l'obiettivo di avere ONTABLE A però ci porterebbe in una situazione in cui avremo di nuovo un super insieme di alcuni goal anzi in questo caso una coincidenza questo è uno stato che abbiamo già avuto eccolo qui e quindi non lo riprendiamo in considerazione perché altrimenti avremo un loop e potete vedere anche cosa accade negli altri casi in particolare nel caso in cui andiamo a togliere qualche cosa da A che cosa abbiamo abbiamo che nella delete list togli qualcosa da A andiamo a rivederla nella delete list c'è UNDEMPTY CLEAR X e ON XY e quindi andremo a eliminare un goal UNDEMPTY e cosa che abbiamo detto prima che non ci piace perché farebbe scomparire uno di goal da conseguire e quindi sostanzialmente in questa circostanza poiché c'è una sovrapposizione fra la delete list di questa azione e i goals che debbo regredire non andiamo oltre e quindi ci mettiamo un false qui e stoppiamo questo lo sviluppo per cui adesso le guardate per conto vostro l'unica azione che possiamo compiere e sviluppare qui anche qui abbiamo una sovrapposizione con la delete list l'unica azione che possiamo portare avanti è questa qui stack B su C che porterebbe in questo insieme di goal che sarebbe questo poi pick up B e poi scenderemo con put down C e poi unstack CA e andiamo a finire in un insieme di goal che coincide con lo stato iniziale eccolo qui punto questa coincidenza è il piano quello che dobbiamo fare sostanzialmente cercando di formalizzare un po' la cosa è di volta in volta fare una di queste tre azioni dobbiamo selezionare un'azione nella cui add list compare un letterale unificabile con un letterale del goal prendiamo in considerazione nel caso che ci sia un'unificazione totale per esempio dobbiamo regredire il goal on AB e on BC mediante l'azione stack X su Y questa azione stack X su Y c'ha come nell'add list on XY A unifica con X e B unifica con Y grazie a questo unificatore in pratica l'operatore diventa questo qui stack stack poggia A su B poggia A su B ha come effetto quello di mettere A su B a questo punto che cosa dobbiamo fare cosa ne è dell'altro letterale on BC in questo caso on BC B e C sono due costanti allora succede questo che il letterale il letterale in questione quello che faceva parte del goal che dobbiamo regredire se coincide con il letterale che compare nell'add list così come risulta dall'unificazione con l'unificatore che è stato utilizzato per utilizzare quell'operatore in questo caso con questo unificatore qui il letterale che dobbiamo regredire questo diventa effettivamente on AB on AB e on AB è lo stesso letterale e quindi se il letterale L unificato coincide con l'elemento dell'add list con quell'unificatore viene regredito con true al posto cioè viene eliminato in pratica quel letterale lì se invece abbiamo che quel letterale compare nella delete list stop non andiamo oltre perché stiamo eliminando un goal di quelli che dobbiamo regredire altrimenti in tutti gli altri casi cioè nell'altro caso che è rimasto il letterale in questione se non rientra in nessuno di questi due casi viene con quell'unificatore regredito to curve in questo caso l'unificatore θ che ha A sostituito che ha X sostituito A e che ha Y sostituito B non ha avuto effetto su OND BC perché B e C erano due costanti quindi quell'etterale viene regredito così com'è questo nel caso in cui c'è stata un'unificazione totale vediamo un caso unificazione parziale supponiamo che noi abbiamo a un certo punto i goal correnti che sono holding B and clear C e un operatore che potrebbe verificare e conseguire uno di questi goal è togli X da Y nell'ipotesi che X sia B perché a questo punto se X è B chiaramente togliendo questo B da qualcos'altro il B rimane nella mano robotica per cui questo goal sarà conseguito effettivamente questo è quello che accade però come vedete rimane non istanziata la variabile Y del secondo letterale nella headlist di unstack XY quindi rimane clear Y a questo punto bisogna per poter andare avanti e regredire i goal bisogna dire bisogna fare un'ipotesi su ciò che sarà istanziato successivamente con Y perché se successivamente con Y istanziamo C a questo punto il quello che viene conseguito anche clear C e quindi scompaiono tutte e due questi letterali dai goal da regredire e quindi i goal che regrediamo sono solo quelli che compaiono nella headlist di unstack e quindi hand empty on BC appunto e clear B se invece Y è diverso da C ci portiamo dietro anche clear C e ci portiamo come goal che regredito quello di mettere B su un qualche Y tenendo presente che Y però non sarà C tant'è che ci portiamo dietro clear C anche da conseguire e nel caso dell'unificazione parziale però distinguiamo anche il caso in cui il goal potrebbe comparire anche nella delete list come sappiamo in questo caso come abbiamo detto più volte dobbiamo interrompere la propagazione all'indietro dei goal e quindi nel caso che c'è stata una unificazione parziale come il caso in cui dobbiamo verificare sia clear B che clear C tramite unstack abbiamo di nuovo una istanziazione parziale perché nella add list di unstack XY abbiamo clear Y che potrebbe unificare con clear B se Y fosse B a questo punto ok mettiamo in conto di fare unstack XB però teniamo presente che se X non è C a questo punto ci portiamo dietro clear C and empty on XB e clear clear X clear C e ce lo portiamo dietro da prima e clear X questo è nell'ipotesi che X non è C se invece X fosse C cosa succede che nella delete list avremmo clear C che andrebbe a cancellare questo goal e quindi non potremmo portarcelo dietro bene a questo punto andiamo a la didattica precedente poi sarebbe un stack prendi e pick up e lascia sarebbe put down questo è lo stato iniziale e questi sono i due goal che dobbiamo conseguire quindi prendiamo lo stato iniziale prendiamo i goal da conseguire ordiniamo i goal abbiamo i goal ordinati e lanciamo il pianificatore passandogli i goal ordinati e in questo argomento qui del nostro pianificatore ci mettiamo la lista delle liste di goal ordinati incontrate lungo la generazione del piano che sarà restituito al quarto argomento eccolo qui il nostro pianificatore ha una struttura estremamente semplice è una sostanzialmente è una high-trade deep research perché stiamo utilizzando al solito la ricerca in profondità ma con questo predicato qui andiamo a cercare prima delle azioni questa è l'azione che stiamo cercando che dobbiamo pianificare che sarà appesa a un prepiano che è quello che invece sarà sintetizzato nella ricorsione successiva e con questo predicato qui prima andiamo a cercare tutti i piani che sono composti da quest'azione comprima un prepiano vuoto quindi di una sola azione poi cercheremo tutti i piani che sono composti da quest'azione comprima un prepiano di una sola azione quindi il piano sarà composto da due azioni poi i casi in cui il piano sarà composto da tre azioni e così via rigenerando sempre i piani precedenti quindi questa qui in pratica è una high-trade deepness ok quindi quando nello stato iniziale tutti i gol sono soddisfatti ci fermiamo in pratica lo stato iniziale soddisfa i gol scorrenti se no andiamo a selezionare un un operatore che mi consegua almeno uno dei gol che devono gol scorrenti che devono essere conseguiti e selezionate l'azione andiamo a prendere le precondizioni la add list e la delete list di quell'azione qui andiamo a vedere che non ci sia una cancellazione dei gol cioè che nella delete list non ci sia una sovrapposizione con la lista dei gol che dobbiamo regredire fatto salvo questo test che potrebbe ripeto introdurre degli elementi in completezza in alcuni casi particolari andiamo a fare la regressione dei gol e cioè avevamo questi gol alla luce delle precondizioni che saranno aggiunti ai gol e della add list che invece saranno tolti andiamo a calcolare i gol regrediti dopodiché li ordiniamo in senso lessicografico e andiamo a vedere che con questo ho predicato qui che i gol regrediti non siano un super insieme eventualmente anche improprio di una sequenza di gol che avevamo già incontrato nella pianificazione lungo quel percorso precedentemente se questi controlli vengono superati a questo punto si pianifica si ricorre sempre passando lo stato iniziale che servirà per far fermare il tutto passandogli quelli che sono gli attuali gol regrediti ordinati aggiungendo gli attuali gol regrediti ordinati alla sequenza dei gol incontrati lungo il percorso restituendo il prepiano come risultato di questo passo della ricorsione gli esaminati esaminati ce la caviamo così siccome sono ordinati questi gol in pratica se sono già stati trovati cosa succede che gol ordinati è il risultato di questi insimi di gol che avevamo già trovati precedentemente più appeso qualcos'altro perché facciamo prima usare la pende che è super insieme e sfruttiamo il fatto appunto che i gol sono stati ordinati precedentemente in senso lessicografico ok e invece seleziona semplicemente funziona così andiamo a prendere un gol dai gol cerchiamo un operatore che un operatore e poi andiamo a verificare che nella sua add list questo operatore abbia quel gol quindi sostanzialmente l'operatore mi va a conseguire almeno un gol di goals preserva dobbiamo semplicemente vedere che nella delete list dell'operatore non ci sia un gol che appartiene anche ai goals regredisce dobbiamo fare cancella tutti togliamo tutti i goal che stanno nell'add list dai goals prendiamo i goals rimanenti e ai goals rimanenti gli aggiungiamo le precondizioni questo è il meccanismo della regressione dei goal aggiunge però va a fare non è un normale append perché va a fare un controllo sulla possibilità e impossibilità i controlli che abbiamo visto precedente cioè verrà aggiunto un goal che sta nelle precondizioni verrà aggiunto ai goals rimanenti se non è impossibile se è impossibile sarà un cut fail quindi se non è impossibile sarà giunto da questo dal resto è predicato sarà giunto solo se non è impossibile cosa significa impossibile e qui listiamo tutti le impossibilità che derivano dalla teoria causale del dominio e cioè per esempio un goal che x sia su y non sarà compatibile con i goals se all'interno dei goals c'è un goal che mi dice che y deve essere libero oppure che y deve essere preso oppure che x deve essere preso sono tutti casi di incompatibilità con i goal sopra x y e il fatto che io sto introducendo che x sia libero come goal non è compatibile se nei goals c'è un goal che c'è scritto che ci deve stare qualche cosa sopra x sono ovviamente una contraddizione dire che ho preso x nella mano robotica e dare questo come goal porterebbe un'incompatibilità qualora nei goals ci sia preso y e con y è un'altra cosa perché la mano robotica non può tenere due blocchi contemporaneamente sarebbe incompatibile con il fatto che x sia sopra qualche cosa sarebbe incompatibile col fatto che qualche cosa sia sopra x e sarebbe incompatibile col fatto che la mano robotica sia libera ecco quindi a questo punto compiliamo e lanciamo il test magari cercando di organizzare le cose nella fase iniziale l'elaborazione vediamo se riusciamo a fare un parallelo sullo schermo a fare un'altra cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi questo sicuramente non sarà e quindi viene lanciato il pianificatore. Per prima cosa si parte dall'ipotesi che il piano sia composto da una sola azione e quindi il prepiano sia la lista vuota. Quindi vediamo se c'è un piano che è composto da una sola azione. In pratica andremo a vedere se è possibile con una sola azione risolvere entrambi i gol. Quindi andiamo a cercare un operatore con seleziona, andiamo a cercare l'operatore. L'operatore primo che viene trovato è, dove è? L'azione è poggia A su B e quindi si esamina questa strada qui. Si va a vedere se questa strada qui preserva i gols, li preserva. Andiamo a calcolare i gol regrediti. I gol regrediti, come abbiamo visto prima, andiamo a calcolare tutti quanti. I gols regrediti sono preso A, libero B e sopra BC. Dunque, preso A, libero B e sopra BC. Ecco i gol regrediti. Dobbiamo vedere se questi gol regrediti li abbiamo esaminati. Se questa situazione qui è un superinsieme di questa qui sostanzialmente. Quindi questo ha successo, quindi il not fallisce. E quindi a questo punto possiamo andare avanti nella pianificazione. Aggiungiamo i gol ordinati, questi tre gol ordinati, alla sequenza dei gol. Quindi aggiungiamo questi qui come lista a questa lista qui, nella lista di liste. e andiamo a vedere se questi tre gol sono sotto insieme dello stato iniziale. Non lo sono. Non lo sono. E a questo punto, che cosa succede? c'è il bettracking perché fallisce il fatto che con una sola azione siamo riusciti a risolvere il gol e quindi si torna indietro, si va a cercare un altro operatore e si trova l'altro operatore che è poggia B su C. In pratica si segue quest'altra strada qui, poggia B su C. Si va a vedere se i gols vengono preservati e dopo di che si va a calcolare i gol regrediti e quindi cancelliamo tutti gli elementi della hide list nei gols rimanenti e quindi abbiamo i gols rimanenti e andiamo a fare l'aggiunta però a quel punto dovremmo aggiungere il gol preso B a sopra AB e quindi questo va bene preso B sopra B qualche cosa non va bene ma questo non ce l'abbiamo e invece preso B sopra qualche cosa B questo va proprio male e quindi sostanzialmente impossibile ha successo e quindi il cut fail e cosa succede? succede che non possiamo aggiungere non possiamo aggiungere il gol preso B al gol on AB e dunque fallisce la regressione e fallisce la selezione di questo operatore poggia B su C si cerca un altro operatore non c'è un altro operatore a questo punto fallisce l'idea di poter risolvere il piano con due sole azioni a questo punto si rifarebbe tutto quanto perché non hai tried di print search però questa volta a due passi quindi si andrebbe a cercare questo e sostanzialmente verrebbe trovato questo qui questo stato qui è quello che possiamo fare adesso perché il tempo è finito è quello di lasciare andare il piano senza fare più cosa è successo è successo che il di togliere C da A di lasciare C sul tavolo di prendere B di poggiare B su C di prendere A e di mettere A su B questo è il piano che è stato conseguito è stato sintetizzato è il piano effettivamente ottimale non abbiamo perso la completezza quindi l'emulazione del bread first ci ha fatto trovare il piano ottimale e qui se andate a rivedere il programma mi ero fatto scrivere la lista dei goals intermedi che avevamo prodotto esattamente queste sopra A B sopra B C il secondo era questo qui che corrispondeva a questo il terzo era on table A clear B undempty on B C clear B che sarebbe questo mano libera libero A libero B su tavolo A e sopra B C e così via fino all'ultimo che corrisponde esattamente allo stato iniziale bene così abbiamo concluso la unità didattica che parla della means and analysis abbiamo concluso la parte importante della pianificazione quindi i fondamenti della pianificazione sono a questo punto conclusi abbiamo sostanzialmente risolto il problema dell'incompetenza della means and analysis e quindi grazie anche fra l'altro a queste potature abbiamo visto come poter eliminare i stati impossibili e quindi insomma abbiamo fatto anche un passo avanti nella direzione dell'efficienza ma ben altro ci sarebbe da fare perché rimangono fuori due concetti molto importanti per rendere la pianificazione efficace nel mondo reale che sono la cosiddetta pianificazione non sequenziale cioè la pianificazione parallela e la pianificazione soprattutto prima ancora la best first perché questi approcci che abbiamo visto sia quello che abbiamo visto due unità di dati che fa che è quello che stiamo esaminando da due unità di dati a questa parte cioè la means and analysis sono comunque due approcci alla pianificazione che non fanno uso di euristica se abbiamo l'euristica la pianificazione diventa una best first e non una bread first e quindi dove come utilizzare l'euristica come procurarsi l'euristica ovviamente questo ci farebbe uscire da un corso introduttivo sulla pianificazione però ne parleremo sia di questo che della pianificazione parallela molto brevemente molto superficialmente nella successiva unità didattica che è un corso introduttivo che è un corso introduttivo